Ciao a tutti, grazie mille per le tante foto che state inviando per il contest Made for Italy con cui state dimostrando il vostro calore per la maglia azzurra. Ora scelgo la mia preferita. La mia foto preferita è Forza Azzurri di Stella Sognatrice. Continuate a mandarci le vostre foto. La più bella sarà firmata da tutti i giocatori della Nazionale.